Sulla falsariga di quello che abbiamo fatto nell'ora precedente vi inviterei anche a guardare questi altri tipi di problemini che sono citati nelle slide, molti ricadono nelle cose che abbiamo visto nell'ora prima, però ci sono un paio di cosette, soprattutto l'ultimo, ho un fino a che per uscire prima che potrebbero essere un po' una sorpresa, che poi in realtà sono gli esercizi su cui verterà pesantemente il laboratorio oggi, però provate a affrontare questi esempietti, qua sulle slide c'è già il codice risolto, però provate a affrontarli con lo spirito con cui abbiamo fatto l'ora precedente, quindi andare passo dopo passo a incastrare, vedere i casi particolari e vedere quale sia il modo migliore. Ok, invece adesso aggiungiamo un elemento sintattico in più, quindi tutti i concetti che abbiamo visto finora sui cicli rimangono assolutamente validi, ma oltre all'istruzione while esiste anche l'istruzione for in Python per costruire dei cicli, quindi un ciclo in Python si può fare o usando un while oppure usando l'istruzione for. Il ciclo for ha una sintassi diversa e ti permette di iterare su tutti gli elementi, su tutti i valori di un gruppo di elementi, in questo caso parla di un contenitore, noi più avanti tra due settimane vedremo vari tipi di contenitori, inizieremo poi a vedere le liste eccetera, per ora un contenitore per noi è una stringa che contiene caratteri, ma più avanti questo concetto lo spanderemo meglio. Per ora diciamo che il ciclo for è utile quando io ho un gruppo di elementi e voglio iterare su ciascuno di questi elementi, come ad esempio i caratteri di una stringa. Noi più ad ora conosciamo un solo tipo di contenitore che è la stringa, impareremo poi gli altri diciamo così nei capitoli successivi. Allora prendiamo la stringa che è il contenitore che conosciamo, il ciclo for in realtà è composto da due paroline for e in, si scrive così for variabile in contenitore. Quindi in questo caso il contenitore è una stringa, il nome dello stato, ad esempio Virginia, che è una stringa che per definizione, l'abbiamo appena detto, contiene in questo caso otto lettere, è un contenitore di otto caratteri singoli. allora il ciclo for mi permette di iterare sui singoli elementi contenuti all'interno del contenitore, quindi sui singoli caratteri contenuti all'interno della stringa. E ad ogni iterazione associa, in automatico l'istruzione for associa alla variabile letter, la variabile di controllo del ciclo, è un controllo un po' diverso, non si basa su una condizione booleana, associa a questa variabile ciascuna delle lettere successive, degli elementi successivi di questo insieme. Quindi questo ciclo for fa sì che lui analizzi questa stringa, veda di quanti caratteri è fatta, in questo caso è fatta di otto caratteri e quindi farà otto due iterazioni del corpo di questo ciclo, in questo caso il corpo è una semplice print. Nella prima iterazione il valore di letter viene posto al valore del primo carattere, nella seconda iterazione il valore di letter viene posto al valore del secondo carattere, nella terza viene posto al valore del terzo carattere e così via. Quindi ogni volta questo letter stamperà una per una i caratteri che compongono questa stringa. Il che è totalmente equivalente a ciò che c'è scritto nel box sopra. Il box sopra parte dalla stessa stringa e usa un normale ciclo while. In questo ciclo while ogni volta stampa una lettera, come fa quello sotto. Questa lettera però come la determina? La determina andando a prendere la posizione i della stringa. Quindi alla prima iterazione i uguale a zero, inizializzato fuori, riconosciamo qua lo schema di prima, inizializzo fuori, incremento dentro come l'ultima istruzione e nella condizione di controllo verifico questa variabile. Come abbiamo fatto prima, solo che c'era un input e qua non c'è. Dicevamo i uguale a zero, quindi la prima iterazione e la lettera uguale a state name di zero, cioè la v maiuscola. Stampo la prima lettera, incremento i e alla seconda iterazione, qui ci sarà scritto state name di uno, quindi il secondo carattere è la i minuscola, poi incremento i, alla terza iterazione, qui ci sarà scritto state name di due, alla terza, quindi la r, zero, uno, due, il terzo carattere, e stampo la r, incremento i e così via. Fino a quando arriverò ovviamente a un valore di i che è uguale, finché è minore della lunghezza, quindi finché è minore di otto, cioè fino a quando arrivo al massimo a sette, continuo questo giochino. Dopo che ho stampato il carattere di indice sette, cioè l'ottavo carattere, cioè l'ultimo, incremento ancora io una volta, che a questo punto varrà otto, otto è uguale alla lunghezza della stringa, essendo uguale non è più minore e quindi esco dal while. Quindi parto da zero, minore del valore massimo, solito modo di contare, valore iniziale compreso, valore finale escluso. Da zero alla lunghezza escluso ovviamente, perché mi fermo, l'ultima iterazione viene fatta col valore lunghezza meno uno. Quindi in questo primo caso io ho un ciclo che mi va a contare con un indice i, mi va a contare le singole posizioni di una stringa e ad ogni iterazione del ciclo vado a considerare il carattere che sta, che vive in quella posizione. se devo fare questo, il ciclo for è un modo più semplice di scrivere la stessa cosa, dove non devo necessariamente gestirmi io la variabile indice, inizializzarla, controllarla, incrementarla e non devo gestirmi io l'estrazione, l'estrazione del singolo carattere, ma mi dà già direttamente la lettera. Questo è il primo contenitore, quindi il ciclo for finora, quanto vi ho detto, lo possiamo usare per ciclare sui singoli caratteri di una stringa, con una variabile di controllo che assumerai, anziché assumere i valori 0, 1, 2, 3, 4, o i valori letti da tastiera, assumo i valori dei caratteri presenti nella stringa. Se fosse così sarebbe poco utile. Ma esiste un altro tipo di contenitore, facile da conoscere, ma comodo, che viene creato attraverso la funzione range. range. La funzione range crea un contenitore che contiene i numeri da 0 a 9, 10 escluso, come sempre. Quindi, se io devo eseguire, che ne so, un ciclo dieci volte, posso costruire un ciclo for che vada a iterare su un range di dieci elementi. E quindi si scriverà qualcosa di questo genere. Ma in realtà questi sono nove, non dieci. Questo ciclo qua, fate attenzione, per come l'abbiamo scritto, parte da uno, arriva a dieci, quindi fa nove iterazioni, non ne fa dieci. Ma per illustrare che la sua funzione range può avere due parametri. Allora, questi due cicli sono equivalenti. In quello di sopra mi gestisco esplicitamente un indice che parte da uno e arriva a nove, dieci escluso. E lo incremento ad ogni volta. Nella seconda, lascio che il for assegna alla variabile i tutti i valori del contenitore creato dalla funzione range. La funzione range si comporta un po' come lo slicing, ha un punto di inizio e un punto di fine. Punto di inizio compreso, punto di fine escluso. E quindi un range da 1 a 10 contiene i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fino a 9, 10 escluso. Quindi ho costruito, è come se io dentro mettessi tra parentesi, for i in, aperta parentesi, 1, 2, 3, 4, fino a 9, chiusa parentesi. Tra l'altro funzionerebbe se lo scriveste. Ma ovviamente è noioso, no? Invece il range crea a lui questa sequenza di numeri. E poi su questa sequenza la variabile di controllo del ciclo for, in questo caso dell'indice i, itera, un elemento per volta. Quindi noi abbiamo praticamente due forme, anche se sono due varianti della stessa forma dell'istruzione for. La forma base è for variabile in contenitore stringa. Il contenitore contiene una serie di elementi, ad ogni interazione prendo il primo, poi il secondo, poi il terzo e eseguo il corpo del ciclo assegnando alla variabile temporaneamente il valore di quel singolo elemento preso dal contenitore. La seconda forma è invece quella che fa uso della funzione range per creare un contenitore promiscuo, lo prende, lo usa, lo distrugge. E che quindi ci permette di, diciamo così, dimenticando per un attimo che viene creato questo contenitore, noi lo leggiamo dicendo fai variare la variabile i nel range che va da 0 a 4, fai variare la variabile i nel range che va da 1 a 4, 5 sempre escluso. Come fa a farlo? Beh, si crea un contenitore che contenga quei numeri e poi dopo itera su questi numeri uno per volta. Per chi è preoccupato del tempo di esecuzione delle prestazioni, in realtà Python non è così scemo da costruire veramente un contenitore magari con 100 numeri dentro, semplicemente poi per prendere uno per volta, no? Quindi è ottimizzata questa operazione, è facile da capire, concettualmente funziona così e poi in pratica se quel contenitore non serve ad altro lui non lo crea neppure, fa finta che esista e prende i valori. Però, non evitiamo questo solo per non fargli creare delle variabili che non gli servono, è più furbo di quanto pensiamo. Allora, la funzione range funziona come uno slicing, quindi posso dare un valore e allora a questo punto lui crea un intervallo da 0 a quel valore. Posso dare due valori e crea un intervallo tra il primo e il secondo, sempre primo compreso, secondo escluso, posso avere tre valori, in questo caso il terzo valore è il passo. Come in una slice esattamente, solo che nella slicing ho tra parenti di quadro e tre valori separati dal simbolo di due punti, qui invece la funzione è normale, quindi i valori li separo con la virgola che separa i vari argomenti della funzione. Qui ci sono alcuni esempi, ma devo dire che sono esempi abbastanza al limite, perché normalmente il range lo creiamo da 0 fino a un valore intero, non partiamo da valori strani, non usiamo dei salti, dei passi strani normalmente. L'unica variante potrebbe essere quando vogliamo andare all'indietro, allora diamo un passo di meno 1. Qui c'è il suggerimento, creiamo cicli semplici, cioè non incasiniamoci la vita, quindi anche il range su cui il ciclo lavora, non andiamo a fare le acrobazie solo perché sappiamo farle. Attenzione a quest'ultimo, la i assume i valori di un intervallo da 5 a 0 a passi di meno 1, quindi sono 5, 4, 3, 2, 1, 0 escluso. Così come qua il 6 è escluso, qui anche lo 0 è escluso. Quindi se volessi arrivare fino a 0, devo fare un range che va da 5 a meno 1, dovrei scrivere 5, virgola meno 1, virgola meno 1. Allora in quel caso avrei un valore che va da 5, compreso, a 0, compreso e meno 1 escluso. Quindi facciamo solo attenzione quando contiamo all'indietro che il valore compreso è il massimo e il valore escluso è il minimo, a differenza del caso avanti. Si applica sempre la stessa regola generale, ma bisogna sempre pensarci un mezzo secondo in più. Allora cosa ce ne facciamo di questo? Ce lo facciamo per controllare dei cicli in cui normalmente il numero di iterazioni e il tipo di iterazione che devo fare è noto a priori. Rispetto al ciclo while, io qua quando scrivo l'istruzione for, già nel momento in cui lo scrivo, ho dichiarato già che so quali sono i valori su cui dovrei iterare. I caratteri di quella stringa, i numeri di quella sequenza. Quindi implicitamente so anche quanti sono, quanti è lunga, quanti ne dovrò fare. Non potrò usare un ciclo for per leggere dei dati dall'utente se non so quanti dati ci sono. Per quello userò e continuerò a usare un ciclo while. Sono due istruzioni che vivono entrambe e ciascuna ha i suoi casi d'uso preferibili. Quindi ad esempio, questo è l'esercizio, ricordate il bilancio, noi in cui andiamo a sommare dopo anno l'interesse, e qua è stata modificata leggermente il testo, e anziché chiedersi quando, dopo quanti anni io raddoppierò il capitale, mi chiede, dato un certo numero di anni, noto, 5, a quanto arriva il capitale? Allora cambia, prima sapevo quale è il capitale d'arrivo e non sapevo il numero di iterazioni, e ho usato un while. Qua conosco il numero di iterazioni, perché sono 5, me lo dice lui, e non so quale è il capitale finale che mi farò calcolare. E quindi in questo caso posso costruire un ciclo, in questo caso hanno creato un ciclo che va da 1, in questo caso non 5, no? 1,6, quindi da 1 compreso a 5 compreso. Perché chi ha fatto questo diagramma di flusso ha deciso che l'anno partiva da 1, perché dopo il primo anno quanto vale, dopo il secondo anno quanto vale, eccetera, eccetera. Normalmente io probabilmente l'avrei fatto partendo da 0, ma non cambia molto. Allora questo qua è l'esempio aggiornato, dove queste tre istruzioni sono esattamente le stesse di prima. Il saldo per il tasso di interesse mi dà l'interesse annuale e il saldo si aggiorna sommando l'interesse di quest'anno. Quindi il corpo di questo ciclo è identico a prima, però in questo caso è un ciclo FOR che itera esattamente per un certo numero di anni che è stato inserito dall'utente qua, in NOMIRS, e alla fine di ogni anno stampa qual è il saldo, qual è l'ammontare disponibile. Il criterio di terminazione non è più quando raggiungi un certo obiettivo, ma quando hai esaurito i numeri da valutare, in questo caso quando ne hai fatto 5 volte. Allora, focalizziamoci ancora una volta sempre sul ciclo che parte da 0, parte da 1, cosa è meglio fare, eccetera. Allora, sul while vi avevo forse, spero, convinti che conviene sempre partire da 0 anche nel while e avere, quindi se devo eseguire un ciclo 10 volte partirò da 0 e scriverò i minore di 10, cioè arrivo fino a 9, da 0 a 9. E quindi scriverò una cosa di questo genere, parto da un certo valore tipo 0 e ciclerò finché sono minore di un valore di arrivo. Scritto così, questo while ovviamente il valore A per la variabile I è compreso, il valore B per la variabile I è escluso, perché mi fermo prima, quando è uguale la condizione è già falsa. Ecco, questo si trasla esattamente nella variante di destra, quindi dove il valore iniziale è compreso, quasi sempre sarà 0, il valore finale è escluso. Quindi se ci abituiamo a quantare da 0, anche sinteticamente è più facile passare da una forma all'altra, abituarci come girano questi indici, i valori che assumono questi indici. Quindi normalmente su un ciclo 4, per come funziona il range, il primo è compreso, il secondo è escluso, e quindi normalmente il primo sarà 0 e il valore di arrivo è sempre 1 in più rispetto all'ultimo valore. Quindi la condizione di determinazione che corrisponde al funzionamento di un range è un minore, non è un minore uguale. E tra l'altro, come vi dicevo, questo ci facilita anche capire, ragionare su quante volte viene fatto un ciclo, perché basta fare B meno A. Se io ho A uguale 0 e B uguale 5, 5 meno 0 fa 5. E verrà eseguito 5 volte, cioè con i valori di I pari a 0, 1, 2, 3, 4. Quindi questo è il modo, questa scelta che appunto sembra innaturale all'inizio, ma poi quella che alla fine semplifica i calcoli e minimizza un po' il rischio di errore. Se invece volessi fare un ciclo che parte, che comprende il valore di arrivo, e quindi nella versione while volessi mettere minore o uguale 9, oppure partire da 1, minore o uguale a 10, quando traduco questo in un range, poiché il range mi esclude per definizione l'ultimo elemento, devo aggiungerci un più 1 qua sopra. Per dire, ok, se io voglio arrivare fino a 10, ma il 10 lo voglio ancora comprendere, il range lo devo creare fino a 11, perché so che l'11 verrà poi escluso nella creazione del range. E mi complica un po' la vita. E così come se vede due valori A e B, e se è un minore uguale, vorrà dire che il ciclo viene eseguito una volta in più. Quindi il numero di volte che esegue questo ciclo non è più B-A, ma è B-A più 1, perché la volta in cui è uguale a B si aggiunge alle altre iterazioni precedenti. non è sbagliato, ma di solito rischia di poi indurre in errore. Adesso qua l'abbiamo già detto. Ok, quindi vediamo un po' se, riprendendo i nostri esercizi di prima, queste qua sono pensate per il while, fatemelo modificare un attimo. Allora, proviamo a vedere un primo esercizio, una prima applicazione di questo ciclo for sulle stringhe, che è il contenitore più semplice che creiamo. E quindi possiamo costruire una stringa in cui, una cosa molto inutile, estraggo solo le consonanti. Quindi data una stringa inserita dall'utente, stampare, costruire una seconda stringa, e stampare una seconda stringa che contenga solo le consonanti della stringa data, ovviamente. Allora, questo come lo possiamo fare? Vabbè, la riga inserita dall'utente la leggiamo con un input, e poi vogliamo costruire una stringa che contenga solo le consonanti, quindi non contenga nessuna vocale. Lo sapremmo fare con replace. Replace A con stringa vuota, replace E con stringa vuota. Cioè ogni vocale la prendiamo uno per uno e la ripiazziamo però proviamo a farlo direttamente lavorando sulla stringa. Allora, io potrei dire che la mia parola risultante la posso ottenere prendendo un carattere per volta della parola di partenza ma togliendo quelli che non voglio, o meglio, prendendo il carattere per volta solamente quelli che mi interessano. quindi l'operazione di base che farei la facciamo prima con un while e di dire io creo una nuova stringa che parte vuota e poi ad ogni volta ci aggiungerò in fondo un singolo carattere della riga di partenza. La prima volta ci aggiungo il primo carattere, il secondo e il terzo e quindi costruisco un pezzo per volta una stringa nuova. Ovviamente partendo da I uguale a zero dal primo carattere finché I sia minore della lunghezza della stringa nuova. e scusate ho dimenticato I uguale più uno. In questo caso questo cosa costruisce? Una stringa nuova identica a quella di partenza perché tutti i singoli carattere le prende uno a uno e le aggiunge in fondo all'altra. Prende nuova se io inserisco gatto perché non mi stampa niente? Grazie ho messo una stringa nuova che chiaramente è zero e quindi questo ciclo Y non viene mai eseguita. Riga gatto ok mi stampa la stringa nuova che è uguale. Noi vogliamo solo le consonanti? Allora dovrò aggiungere il carattere alla stringa nuova solo se non è una vocale. Quindi if riga D che è il singolo carattere non è una vocale quindi is lower mettiamolo in minuscolo not in I io U riga D è singolo carattere se non è una delle vocali sarà una consonante e allora se è una consonante la devo mettere la devo aggiungere se invece non è vero che è una consonante cioè una vocale non lo aggiungo in realtà così sto aggiungendo le consonanti e anche tutti i segni di punteggiatura per come l'ho scritto ignoriamolo e quindi se io scrivo gatto mi lascia solamente mi conserva solamente le consonanti fin qua non c'è nulla di nuovo un altro modo di scrivere la stessa cosa è usare il ciclo for ad esempio potremmo usare il ciclo for per gestire l'incremento dell'indice I questo indice I nel caso di gatto deve andare da 0 a 5 perché la lunghezza della stringa della riga è 5 caratteri allora io quello che potrei fare è fatemelo rifare sotto riparto di nuovo da nuova uguale vuoto e potrei dire senti caro istruzione for mi aiuti a costruire i valori tra 0 e 4 allora mi aiuti a far sì che la I spazzoli i valori nel range che va da 0 a alla lunghezza della stringa allora con una istruzione di questo genere lui crea un range che va da 0 a un valore che è pari alla lunghezza della stringa meno 1 la lunghezza della stringa meno 1 corrisponde proprio all'ultimo carattere della stringa e quindi i valori di I sono esattamente gli stessi di prima e allora posso tranquillamente scrivere la stessa cosa quindi l'operazione che farò è la stessa facciamo un'altra print con la differenza che la gestione della variabile I non la faccio più io la demando all'istruzione for ok quindi quando devo usare un contatore una variabile semplicemente per contare il numero di iterazioni in un ciclo while faccio molto prima scriverlo come ciclo for cosa ho risparmiato ho risparmiato l'inizializzazione che praticamente è questo zero qui l'incremento che ci sta nell'in il valore finale che c'era qua è lo stesso identico che c'è qua quindi ho risparmiato due righe ma risparmiato le due righe sono due righe che avrei potuto sbagliare se le avessi scritte quindi magari me la dimenticavo magari non inizializzavo magari non incrementavo bene ciò che non scrivo non può essere sbagliato tra l'altro in questo caso il valore iniziale del range è zero e quindi può essere sottinteso anzi normalmente viene sottinteso quindi un modo per iterare sugli indici delle posizioni dei caratteri di una stringa può essere questo in range length della stringa allora ho la variabile i che posso usare per andare a pescare il singolo carattere e fargli le cose che mi servono ma ma c'è anche il passo successivo se non mi strozzo che è quello di riconoscere ricordarsi che una stringa è in se stessa un contenitore dei suoi propri caratteri e quindi posso chiedere al for direttamente di andarmi a prendere i caratteri e darmeli uno per volta quindi la terza versione parte sempre creando una stringa vuota che andremo a riempire e chiedo di iterare non su un range da 0 a no sulla stringa stessa che è fatta di caratteri e quindi la variabile di controllo di questo ciclo non lo chiamo più i perché i mi sa di intero la chiamo ch perché mi ricorda che è un carattere potete chiamarla come volete ma concettualmente è una cosa molto diversa l'altro era un numero 01234 questo invece è un carattere g a p t e controlliamo ovviamente se questo carattere non è una vocale allora lo aggiungiamo alla nuova e lo possiamo stampare quindi funziona sempre nello stesso modo se non ho sbagliato qualcosa qual è la differenza tra questi due la differenza che in quello superiore sto iterando sugli indici dei caratteri della stringa nella versione sottostante sto iterando sui singoli caratteri sono già i caratteri vedete che i non c'è più non c'è ch di 0 ch di 1 no il ch è già ogni volta che itero assume un valore di quella singola iterazione vediamolo pure in debug cosa succede? io sono arrivato qua in debug dove la riga è gatto e la stringa nuova è vuota e mi appresto a fare questo ciclo for allora questo ciclo for itera direttamente sulla stringa la prima volta ovviamente entra e eseguirà tante iterazioni quant'è la lunghezza della stringa se la stringa fosse una stringa vuota non entra nel ciclo perché non c'è nessun carattere la prima volta vedete che ch uguale g cioè l'indice di controllo di questo ciclo che ho chiamato ch la prima volta assume il valore del primo carattere della stringa riga in questo caso la g minuscola quindi questa ch è una variabile dentro il ciclo che viene aggiornata la posso usare quindi se mi chiedo se non è una vocale allora in questo caso non lo è allora ch che vale sempre g l'aggiungo e nuova contiene la g adesso la seconda alla seconda iterazione il carattere la punta diciamo così si è spostato sul secondo carattere della stringa la variabile di controllo del ciclo si è spostata sul secondo carattere della stringa in questo caso una A che ovviamente fallisce questo testo essendo una vocale e quindi non viene eseguita l'aggiunta alla nuova e così via quindi faccio la stessa cosa di prima io qua ho una T e so che devo aggiungerla cosa mi manca in questo ciclo mi manca di sapere dove sono nella stringa io so che i caratteri mi vengono dati uno per volta però in questo caso non so se sono all'inizio a metà in fondo cioè mi manca l'indice mi manca la posizione ci sono dei casi in cui mi va bene così in questo caso mi va bene così prendo un carattere per volta lo uso faccio in questo caso lo controllo eventualmente lo concateno al risultato e poi passo a quello successivo non mi serve sapere in quale indice in quale posizione sono all'interno della stringa e allora è molto più compatto se invece mi servisse per qualche motivo sapere in che posizione perché magari devo stampare che ne so anche l'indice non solamente il valore e beh allora dovrò usare un for che esplicitamente mostri l'indice usi l'indice e poi dall'indice è possibile passare al carattere quindi se so che sono in posizione 2 qual è il carattere in posizione 2? riga di 2 dal carattere non è possibile passare all'indice non in modo univoco questa è una t ma di t in questa stringa ce ne sono due quale delle due? non si può sapere ok? quindi dipende ovviamente dal lavoro che dobbiamo fare se ci interessa fare qualcosa analizzando i singoli carattere della stringa la forma più breve più sintetica è ovviamente questa no? usando un ciclo for che va ad iterare direttamente sui carattere se invece oltre ai caratteri ci serve anche la posizione in cui dice ma stampa le vocali solo la cui posizione sia posizione pari dispari oppure oppure se devo controllare un carattere è quello prima è quello dopo quando ho un'interazione di questo genere non ho quello prima e quello dopo solamente quello in corso e se ho quello prima mi serve l'indice per poter fare meno 1 e più 1 dall'indice quindi a seconda dei problemi che ho di fronte sceglierò normalmente o l'una o l'altra di queste forme la seconda è preferibile quando posso perché è più breve più sintetica più semplice altrimenti va bene quella di sopra questa parte su avere entrambe le cose la vediamo la prossima settimana perché non voglio aggiungere troppi casi particolari ecco l'altro tema che però in realtà abbiamo già in parte toccato ma volevo solo assicurarvi sul fatto che non c'è molto di più da dire ma c'è solo da capire facendo gli esercizi e cosa significa avere dei cicli che sono annidati uno dentro l'altro l'abbiamo già fatto prima quando facciamo l'esempio dei numeri negativi che erano da richiedere abbiamo un ciclo while e dentro questo ciclo while abbiamo scritto un altro ciclo while non c'è nulla di nuovo da sapere bisogna un attimo capire imparare a gestire queste cose abbiamo un ciclo while esterno il cui diagramma di flusso è sempre questo condizione body corpo ripetizione oppure uscita e immaginate che dentro il corpo a un certo punto ci sia in miniatura la stessa cosa e quindi ad ogni singola iterazione del ciclo while più esterno il ciclo interno inizia si ripete tante volte e poi arriva alla fine poi faccio una seconda iterazione del ciclo esterno e questo fa riniziare di nuovo il ciclo interno che girerà tante volte e poi arriverà alla fine quindi ad ogni singola iterazione del ciclo esterno quello interno deve avere girato fino al fondo è un po' come un contachilometri no? qui la rotella delle unità deve fare un giro completo e arrivare fino a zero prima che scatti la rotella delle decine e ad esempio questo tipo di operazioni può essere utile a gestire dei valori dei dati che siano in qualche modo bidimensionali ad esempio qua mi dice proviamo un attimo a costruire una tabella di potenze c'è una griglia di numeri in cui ogni colonna rappresenta un esponente e ogni riga rappresenta una base quindi a un certo punto c'è il 27 l'81 sarebbe 3 alla quarta terza riga base 3 quarta colonna esponente 4 allora come faccio a generare un output di questo genere devo ragionare per gradi se mi si chiedessero se mi si chiedesse perdono generami tutte le potenze quarte dei numeri lo faccio facilmente facciamo un programmino semplice piccolo piccolo se io voglio stampare la quarta potenza dei numeri da 1 a 10 for num in range 1 a 11 perché ho detto parole che le volevo da 1 a 10 print num alla quarta mi stampa le potenze quarte dei numeri da 1 a 10 il problema non è tanto calcolare questa potenza è organizzare questa stampa se avessi bisogno di una colonna la so fare se avessi bisogno di una riga una riga vuol dire tutte le potenze di 3 tutte le potenze di 3 anche lì le posso fare for l'esponente in range da 1 a 10 print 3 elevato all'esponente e quindi avrò 3 9 27 81 tutte le varie potenze fino alla 3 alla 9 in questo caso della base 3 e se noi in realtà cosa dobbiamo fare dobbiamo costruire entrambe le cose quindi in qualche modo incrementare far variare sia la base sia l'esponente e in che ordine lo facciamo e dobbiamo farlo nell'ordine in cui le stamperemo quindi prima dovremo stampare tutte le potenze di 1 poi tutte le potenze di 2 poi tutte le potenze di 3 poi tutte le potenze di 4 e così via perché? ma perché quando io faccio print posso solo andare avanti non posso tornare indietro non posso stampare la prima colonna e poi tornare su di 10 righe e stampare la seconda colonna sono obbligato a stampare per righe perché la print non ha retromarcia quindi se le devo stampare per righe io dovrò fare una cosa del tipo quindi una riga è la base la colonna è l'esponente quanto la voglio fare grande questa matrice beh definiamo due costanti esponente massimo uguale 5 e base massimo uguale 6 poi basta ritoccarli allora cosa abbiamo detto devo stampare la prima riga la prima riga corrisponde alla base 1 quindi posso usare un ciclo for base in range 1 base max più 1 cosa ho scritto qua for base è la variabile che uso per far assumere alla base tutti i valori che mi servono la faccio partire da 1 non da 0 0 elevato non è molto interessante e fino alla base massima che è 6 quindi in un range ovviamente dovrò sommare 1 al valore finale perché viene escluso più 1 troppo antipatico ma ci sta nella richiesta e qua cosa devo stampare stampo la riga una riga con le potenze con tutte le potenze di questa base ho risolto il problema riga con la potenza di 1 riga con la potenza di 2 riga con la potenza di 3 e la riga inventitela tu stampatela tu ho deciso di creare la mia tabella una riga per volta ma una riga con la potenza di la base la so fare sì un attimo fa la saprei l'avevo scritta poi l'ho cancellata ma per stampare una singola riga non devo fare altro che generare tutti i possibili valori di colonna cioè tutti i possibili valori di esponente e per ciascuno stampare il valore quindi quando dico stampa una riga vuol dire semplicemente stampa uno a uno gli elementi di quella riga e questo richiede che gli elementi di questa riga dipendano dall'esponente quindi l'esponente in range da 1 a esponente massimo più 1 stamperò ad esempio che la base elevato all'esponente è uguale base esponente una cosa così quindi cosa ho fatto questo qui tutto questo è il corpo di questo ciclo for che itera sulle righe ogni singola iterazione di questo ciclo for corrisponde a una riga della tabella che devo stampare riga con la potenza di 1 punto dimentichiamo per un attimo questo foro qua dentro cosa devo stampare devo stampare una riga con tutte le potenze della base ok cosa vuol dire vuol dire che una per una stamperò le potenze della base elevato a un esponente 1 2 3 4 avendone molte avrò un ciclo foro che le stampa tutte una per una quindi ho due cicli annidati in questo caso cicli foro sono più semplici perché non ho da gestire gli indici incrementali eccetera in cui vedete che la prima volta faccio 1 elevato a 1 1 alla 2 1 alla 3 1 alla 4 1 alla 5 cos'è che si sta muovendo l'esponente cos'è che sta fermo la riga cioè il numero la base quindi vedete che il ciclo più interno che è quello che va sull'esponente gira ciclo esterno è fermo alla prima iterazione la base ferma a 1 quando il ciclo interno finisce perché è arrivato a 5 che è il suo valore massimo allora si sveglia il ciclo esterno e passa la seconda sua iterazione vedete che a questo punto la base è diventata 2 allora rientro nuovamente nel ciclo interno e lo ripeto più volte sempre con la stessa base 2 ma con valori di esponente diversi quindi il ciclo esterno è lento fa un giro e quello interno itera velocemente da 1 a 5 poi quando è arrivato a 5 quello esterno va avanti e quello interno ricomincia da capo ogni volta e quindi alla fine genera tutte le combinazioni di basi comprese tra 1 e 6 e di esponenti comprese tra 1 e 5 estremi inclusi se non fosse per l'estetica avrei risolto l'esercizio ho stampato tutte le potenze di tutti i primi numeri tutte le prime potenze diciamo di tutti i primi numeri interi però mi aiuta a capire come lavorano questi due cicli annidati l'uno dentro l'altro ok se lo volessi però fare un pochino più simile a questa figura e dovrei essere più sintetico innanzitutto stampando solamente i numeretti e non tutta questa pappardella che però ci è servito per capire cosa stava succedendo ma nella versione finale non la vogliamo più vedere stampiamo solo il numeretto ok stampiamo solo il numeretto vuol dire commentiamo questa print e commentiamo quest'altra dove stamperemo semplicemente f di base elevato esponente quindi così è sicuramente più asciutta non ha tutti i commenti anche se non è ancora bidimensionale cosa devo fare ancora beh il problema mio è che tutte le volte che faccio print la print va a capo in realtà esiste il modo di dire la print senti non andare a capo la funzione print quando stampo quando stampo qualcosa chiaramente riceve in ingresso tutti i valori che devo stampare e poi ha una serie di parametri opzionali che mi permettono un minimo di personalizzare come vengono stampati questi parametri opzionali i due più importanti sono questi qua indicati qua che sono sep e end sep sta per separatore end sta per fine per terminatore sono due stringhe che se io non dico nulla se non li modifico sep è uno spazio e end è un a capo il carattere di a capo questo è il motivo per cui quando facciamo print a virgola b virgola c il valore di a il valore di b il valore di c sono separati da uno spazio perché sep il separatore è uno spazio è il motivo per cui dopo che abbiamo fatto print va a capo perché l'end è un a capo questi due li possiamo cambiare in questo caso il separatore non ci interessa perché stiamo stampando un valore solo per volta quindi il separatore ha senso se nella print hai più valori separati da virgola però possiamo dire senti dopo che hai stampato questo però non andare a capo e allora come carattere da aggiungere alla fine della print anziché una capo ti metto una stringa vuota dopo che hai stampato i valori aggiungici lui ci aggiunge sempre un end se non dico nulla ci aggiunge l'end vale a capo se mi modifico qualcosa l'end vale ciò che dico io in questo caso è un po' appiccicato la cosa e l'ha fatto non è mai più andato a capo gli ho detto non andare a capo lui non è andato a capo se gli avessi detto che come end di mettere invece un asterisco lui avrebbe detto ogni volta che stampo un numero poi ci metto un asterisco cioè per lui è una stringa come un'altra per default questa stringa è a capo che come carattere di escape sarebbe barra n e vedete che se io rimetto il barra n mi compare esattamente quello che c'era prima quindi è la stringa di default se mi serve il barra n non devo metterlo a me non serve nulla quindi mi va bene che non ci sia nulla magari devo incolonnarli un po' meglio i numeri ma per questo potrei usare magari le funzioni di formatazione diamogli magari no non so sei caratteri per ogni numero vediamo se ci stanno noi lo sappiamo fare punto 2d è sulla 6 ho detto 6d cioè facciamo in modo che la la formatazione del numero già sia fatta l'abbiamo imparato l'altra volta sul numero fisso di caratteri e tra l'altro questi caratteri ci abbiamo messo un po' di margine in modo da avere i numeri staccati tra di loro quindi le potenze di 1 sono tutte qua le potenze di 2 sono tutte qua le potenze di 3 sono qui poi c'è le potenze di 4 eccetera cosa manca ancora e manca ancora che è vero che non devo andare a capo tra una potenza e quella successiva ma alla fine di tutte le potenze dovrò andare a capo una volta per poter passare alla base successiva e come lo faccio questo? aggiungo un'altra print che non stampi nulla ma va da capo dove la devo aggiungere? qui una print che non stampi nulla ma che crei una riga vuota praticamente qui una print fatta così senza niente ma non avendo cambiato l'end automaticamente lei non è che non stampa nulla stampa nulla seguito da una capo ok quello che ci serve dove la metto questa print? dopo le potenze ovviamente dopo che ho stampato i numeri la metterò più o meno da queste parti ma non qui perché se la stampo qui cosa sto dicendo? stampami un numero ma non andare a capo e poi vai a capo dai e quindi sono di nuovo in questa versione devo farlo solo alla fine di ogni riga quindi dopo che ho stampato l'ultima potenza non la devo fare sempre cosa ci manca qui? potrei chiedere se l'esponente è uguale all'ultimo esponente che ho stampato quindi metterci un if ma no è meglio far così cosa sto facendo qua? questa print la metto dentro il ciclo for più esterno ma fuori dal ciclo for interno perché l'ho allineata guardate come sono incolonate le cose al contenuto del corpo del primo ciclo allora in questo caso cosa succede? ricordiamoci come facevano i cicli entro in quello esterno prima iterazione entro in quello interno tutte le iterazioni e tutte le iterazioni di quello interno cosa stampano? tutti i numeri sulla stessa riga poi quando ho finito di stampare tutti i numeri sulla stessa riga quindi ho finito le iterazioni del ciclo interno esco dal ciclo interno e vado a eseguire quella print solitaria quella print è fuori dal ciclo interno e quindi viene eseguita una volta sola dopo che il ciclo interno è finito e va a capo quella è anche l'ultima istruzione del ciclo più esterno e quindi poi torno sopra quindi ho stampato dentro il ciclo tutti i numeri senza mai andare a capo dopo che ho finito di stampare i numeri ho stampato un singolo a capo che mi posiziona all'inizio della riga successiva pronto per iniziare l'iterazione della seconda base della base successiva ok allora su questo tema qui ci sono parecchi esercizi li trovate sia in laboratorio che nel libro che vi chiedono di stampare magari un quadrato un rombo un triangolo fatto con gli asterischi eccetera sembrano stupidi sono stupidi ma ci aiutano a ragionare sui doppi cicli sui cicli annidati su che cosa succede dentro ok quindi alla fine qual è l'istruzione che stiamo eseguendo qual è il cuore qual è il corpo dei nostri cicli questo questa print qua quello è il il corpo del nostro programma ciò che sta intorno cos'è sono meccanismi per ripetere quell'istruzione con tutte le combinazioni di valori allora mentre un ciclo foro unico mi dà una spazzolata su un insieme lineare di valori quando io in questo caso due cicli foro annidati mi daranno una spazzolata su un insieme bidimensionale di valori tutte le coppie possibili di valori dove quello più interno è quello che gira più velocemente è quello che analizza le righe i singoli valori di una certa riga quello più esterno quindi le singole colonne di una certa riga quello più esterno invece passa da una riga all'altra è quello che va avanti più lentamente in questo caso appunto il corpo era semplicemente questo e in tutte le righe dobbiamo fare la stessa cosa però come vedrete negli esercizi che vi abbiamo proposto in laboratorio ci sono varie varianti che si possono creare allora questo qui fa la stessa cosa qui è il seppelende che avevamo detto prima ok ecco la cosa che ci manca ancora rispetto a questo che potrebbe essere il risultato che vogliamo ottenere è la riga di testazione cioè oltre ai numeri che sono gli stessi che vengono a noi l'esercizio ci chiedeva anche di stampare quella riga là in alto e come facciamo a stamparla allora partiamo dalle cose facili la linea tratteggiata quando quando devo stamparla è come allora quando devo stamparla è prima di iniziare a stampare tutta la matrice chiaramente come posso fare una print di un trattino moltiplicato quanti trattini mi servono quanti trattini mi servono print trattino per quanto spazio occupa c'è solo i numeri che ho stampato 6 quanti numeri sono stampanti su ogni riga esponente massimo quindi sarà 6 per esponente massimo credo adesso vediamo sì chiaramente che questo 6 è legato a questo 6 sotto se io cambiassi questo valore sotto dovrò ovviamente cambiare anche l'altro poi ho una riga di x quindi dovrò stampare tante volte una x a distanza di 6 tante volte quante quante sono le colonne cioè quanti sono gli esponenti quindi per stampare tante volte questo mi conviene probabilmente fare un ciclo oppure neanche guarda devo stampare devo stampare un blocco comunque che sia sempre di 6 caratteri quindi potrebbe essere 4 spazi 1 2 3 4 x spazio ripetuto quante volte quante sono le colonne sui 6 caratteri la x l'ho messa nella penultima posizione perché l'ultima magari la voglio usare per l'esponente mi sarebbe mettere x elevato a qualcosa quindi in questo caso me la sono cavata semplicemente con una moltiplicazione di stringhe la prima riga invece è quella un pochino più sarà più complicata non lo so devo stampare i numeri da 1 a x max ciascuno sui 6 caratteri quindi di fatto ciò che devo fare qua come prima riga per generare i numeri gli esponenti delle x è esattamente la stessa cosa che facevo qui ciclo sugli esponenti e stampare questa volta anziché calcolare la potenza e semplicemente stampare il valore dell'esponente e quindi lo devo fare però con un ciclo exp in range 1 esponente massimo più 1 print allora devo stampare l'esponente su 6 caratteri senza andare a capo questa dovrebbe essere la riga degli esponenti adesso la riga delle x mi è venuta qua perché ovviamente per stampare gli esponenti ho soppresso l'andare a capo e quindi la prima x me l'ha stampata ancora sulla stessa riga degli esponenti allora vorrei dire che dopo che ho finito di stampare tutti gli esponenti ci aggiungo una capo questa print è sempre fuori dal ciclo in questo caso ho un for singolo non ho due for anidati perché semplicemente devo generare dei valori che crescono in una dimensione se ho valori che crescono in due dimensioni avrò bisogno di due cicli ciascuno di quali si gestisce una delle due dimensioni tra l'altro proviamo a vedere cosa succede se andiamo avanti mettiamo un 15-15 vediamo cosa succede allora succede che questa riga qua funziona bene come allineamento più o meno non è vero perché tanto quando l'esponente comincia ad avere due cifre la x non è più dovrebbe essere anticipata in una posizione lo vedete che disegnate x alla ottava va bene x è qua e l'otto è nel carattere a destra x alla decima l'uno è troppo sinistra l'uno dell'esponente 10 è troppo sinistra rispetto alla x dovrebbe essere il 10 no in realtà il 10 è nella posizione giusta è la x che è troppo avanti dovrei tirarla indietro quindi qui c'è un giochino che non è banale se volete essere perfezionisti di andare a decidere la posizione della x che non è detto che sia nella penultima posizione dello spazio disponibile ma magari non può neanche essere una più indietro perché se fosse più indietro sarebbe male qua deve dipendere dal valore dell'esponente dal numero di cifre dell'esponente e il fatto di aver lasciato 6 spazi per il valore mi va bene solamente per le prime due e per le altre sto debordando chiaramente l'istruzione di formattazione dice almeno 6 spazi e se ne ha bisogno di più li usa tutti non butta mai via delle cifre quindi l'allineamento non è proprio così fantastico quando il valore 6 che abbiamo scelto non è così fantastico quando abbiamo degli esponenti più grandi però questo sul testo cosa diceva il testo 4 10 quindi l'esponente massimo era 4 la base era 10 e ci stiamo dentro tranquillamente ok questa tecnica qui adesso non vi non vi rubo troppo tempo ma può essere usata per costruire diciamo sempre a livello di ginnastica no? quindi esercizi di base per imparare le trappole o i casi particolari per costruire che sono delle figure disegnate con esterissi qui vedete un quadrato un triangolo significa che già il numero di esterissi che devo stampare per ogni riga non è uguale per tutte le righe ma dipende dall'indice di riga in cui mi trovo no? o figure anche più complicate ne trovate un paio anche negli esercizi trovate parecchi esercizi sul libro come vi dicevo sono esercizi che sembrano inutili perché alla fine quando hai disegnato il quadratino pieno o il quadrato vuoto eccetera non è che hai fatto nulla però ci permette di acquisire un po' di competenza sui cicli annidati che poi ci tornerà utile più avanti quando faremo le tabelle e le matrici di numeri e dovremo poi lavorare con dei numeri effettivamente reali ok io qua mi fermo vi lascio al laboratorio di questa settimana e completeremo queste cose con qualche esercizio ancora la settimana prossima per poi passare alle funzioni grazie grazie